Quasi cento tonnellate di rifiuti sono stati rimossi nelle ultime due settimane dall'area di via marina affacciata alla piazza del Carmine dove si ergono le due torri Brava e Spinella che coronavano la cinta muraria aragonese. La radicale operazione di pulizia è stata realizzata nell'ambito del progetto Monumentando. In questi spazi che vediamo qui sulla destra addirittura avevano creato delle casette. Abbiamo impiegato circa dieci giorni soltanto per allontanare le persone che ormai avevano preso possesso dell'area e in questa zona abbiamo rimosso in circa sette giorni una media di 150 quintali al giorno di rifiuti di tutti i generi. Nel fossato praticamente c'erano almeno dai 50 centimetri a un metro e mezzo di spazzatura sparsi per tutta l'area. In seguito saranno riaperte e ripulite anche le due torri che fino al 1906 cingevano l'imponente Castello del Carmine. Nella torre Spinella conosciuta anche come Torrione dei Birri fu imprigionata Eleonora Pimentel Fonseca prima di essere condotta al Pativolo. Adesso praticamente i lavori sono stati ultimati per quanto riguarda la pulizia. Poi dalla settimana prossima inizieremo i rilievi per poi redigere i progetti di restauro che sottoporremo alla visione della sovrintendenza. I lavori proseguiranno col restauro delle due torri del settecentesco Guado del Carmine e della Fontana della Marinella.